Sempre più equilibrio in serie D, in vetta la classifica di serie D e stesso discorso più o meno vale anche per la Serie C dove invece di fatto c'è un padrone più assiduo che è la Ternana pur non avendo giocato. Di tutto questo e di tanto altro parleremo in risultati e classifiche questa sera ben trovati e noi cerchiamo subito di andare a raccontarvi questa domenica davvero gelida sui campi da gioco di Puglia in alcuni casi non si è neanche giocato come per esempio ad Altamura per il match tra Altamura e Molfetta e partiamo allora subito dalla Serie D con l'ultima giornata del girone d'andata una giornata che continua a dire che c'è davvero tanto equilibrio soprattutto in vetta lo dicevo in apertura di questa puntata. C'è sicuramente il successo importante del Taranto contro il Lavello nel big match proprio di questa diciassettesima giornata. C'è il successo anche molto importante della Fidelisandri in casa contro il Francavilla. Vince anche il Bitonto in rimonta sul fanalino di coda Fasano alla prima di Valeriano Loseto sulla panchina. Però andiamo con ordine. Vediamo assieme anche con l'aiuto della grafica proprio i risultati di questa domenica. Vittoria importante anche del Nardò che batte il Cerignone al Giovanni Paolo II per 1-0 e vince anche il Casarano che batte 3-1 la Putiolana anche in questo caso in rimonta Casarano che balza di fatto poi in testa. Vedremo la classifica. Fasano Bitonto 1-2, Fidelisandria Francavilla 2-1. C'è l'importante successo del Sorrento per 1-0 contro il Real Aversa. Taranto Lavello 2-0. Gare rinviate. Gravina Picerno e Portici Brindisi per casi Covid nel caso rispettivamente tra Gravina e Portici. Invece Tim Altamura Molfetta rinviata per l'impraticabilità del campo. Oggi Altamura era completamente imbiancata così come il Tonino D'Angelo. Vediamo allora la nuova classifica. Ovviamente ci sono ancora tante gare da recuperare, le vedete con gli asterischi. Il Casarano con due gare da recuperare ha però 29 punti in classifica. Dunque torna in vetta alla graduatoria del Girone H, la formazione di Mister Feola che oggi non era in panchina perché è squalificato. inseguono Lavello, Picerno e Fidelissandria con 28 punti. Poi ci sono Tim Altamura e Taranto con 27, Nardò 25, Sorrento 23, Bitonto 21, Molfetta 19, Francavilla 18, Cerignole Brindisi 17. Il Brindisi ha anche un meno 2 in classifica. Real Aversa 15, Gravina, Portici 14, Chiudono, Putiolano e Fasano 12. Naturalmente come detto qui ci sono molte gare da recuperare. E allora andiamoci a vedere insomma un po' i goal di queste gare della diciassettesima giornata. Ce ne sono alcuni davvero belli. Dunque andiamoci a vedere gli highlights e soprattutto ascoltiamo anche le voci dei protagonisti sui campi. Come detto campi davvero gelidi in Serie D. Vediamo. Il gelo non ferma la festa della Fidelis Aldegli Ulivi che doma un buon Francavilla con in panchina il solito Lazic. La squadra di Panarelli festeggia il ritorno a successo dopo l'amara parentesi di Venosa contro il Lavello e torna a correre. I sorrisi in casa bianca azzura sono quelli sinceri di un superlativo Francesco Fontana che ormai da inizio campionato si fa trovare sempre pronto in difesa e da oggi anche in avanti con il suo primo gol in maglia a Fidelis. Non ci sono Manzo e Venturini ed allora Panarelli adatta gli uomini al suo 3-4-1-2 con Carullo sulla linea difensiva e Clemente esterno destro. Cerone nuovamente alle spalle di Cristalli e Scaringella. Lazic invece vuole un Francavilla spregiudicato con un 3-4-3 in cui l'ultimo arrivato Leonetti viene schierato al centro dell'attacco e al suo fianco ci sono le Arexic. Ma neanche un giro di lancette la Fidelis prova a replicare un gol velocissimo con Cristalli che serve Scaringella nel cuore dell'aria in leggero però contro tempo. Cerone con un doppio tentativo prima una conclusione potente su cui fa buona guardia Basile. Esordio stagionale per lui poi un lob troppo alto per impensierire l'estremo difensore ospite. Avantaggiato ci prova da sinistra ma è ancora pronto Basile. Primo squillo Francavilla al quindicesimo con Leonetti. Andriese Doc il cui tiro è ben respinto da Anatrella in corner. La squadra di casa però mette le cose in chiaro e sigla il vantaggio dopo 18 minuti. È sempre avvantaggiato da sinistra ad arrivare sino al fondo e a mettere al centro per Cerone che tutto solo proprio non può sbagliare un gol facile facile. È festa a Fidelis ed allora Lazic capisce che la sua squadra è troppo sbilanciata e inserisce Navas al posto di Alexic. Francavilla più equilibrato e Galdean calcia dai 20 metri ma Anatrella è attento a respingere con i pugni. Ci prova ancora la Fidelis con Scaringella bravo a difendere il pallone a servire avvantaggiato che rientra e calcia a giro ma la sfera è alta di poco. La partita è davvero viva. Nolè sull'altro fronte si ritrova in area di rigore tutto solo dopo un presunto controllo con il braccio non segnalato dal direttore di gara ma il suo tiro è salvato ancora da Anatrella. Sempre avvantaggiato per i biancazzurri ci prova questa volta a Basile e bravo a respingere. Sul proseguo Cerone si vede murare la conclusione dei difensori di casa. Al trentaseiesimo è Monaco con la testa sugli sviluppi di un corner e rasfiorare il raddoppio. È bravissimo ancora una volta Basile a toccare quel tanto che basta il pallone per mandarlo sulla traversa. Cerone in area prova una conclusione che finisce troppo alta. Francavilla in avanti con Del Col che combina con Lionetti e calcia direttamente di poco sul fondo. In pieno recupero Scaringella per la corrente Cristalli tutto solo. Calcia in area ma un difensore devia in corner. Un primo tempo davvero ricco di emozioni e che lascia il passo a una ripresa che non delude almeno nel primo quarto d'ora. Neanche un minuto di gioco e già ci sono le prime schermaglie con i due numeri quattro. Prima Clemente e poi Galdean a non spaventare però i rispettivi estremi difensori. Ma dopo tre minuti ecco il pari degli ospiti. Nolè va via sulla sinistra e dal fondo prova un tiro cross che probabilmente è aiutato anche dal vento. Diventa una conclusione pericolosissima per Anatrella. Molto bravo a tenere viva la sfera ma Del Col è ben piazzato per siglare il pari. Doccia fredda per la Fidelis è il caso di dirlo quando al tredicesimo la Cassi è costretto a lasciare il posto al dipinto per un problema fisico. Panarelli chiede ai suoi di risistemarsi in campo e un minuto dopo sugli sviluppi di un corner è prima Clemente a vedersi respingere miracolosamente la conclusione da Basile ma poi ci pensa Fontana a chiudere i conti e a siglare il gol del successo finale. La reazione Francavilla arriva dai piedi di Morleo che si libera bene in aria e prova una conclusione a botta sicura che Anatrella ancora una volta respinge da campione. Poi sono tanti i cambi, nuovi disegni tattici e grande agonismo sino al quarantatresimo quando si fa male anche Clemente per la Fidelis che resta in campo solo per onor di firma sino al triplice fischio finale. È una vittoria che vale davvero tanto in casa Biancazzurra. Domenica la Fidelis affronterà per la prima giornata di ritorno il bitonto dei tanti ex. Vittoria sofferta, vittoria meritata, se proprio vogliamo trovare il perone l'uovo poteva essere chiusa prima per non ritrovarsi poi a soffrire negli ultimi minuti. Giusta analisi, giusta analisi perché alla fine è quello che si è visto il primo tempo, il primo tempo abbiamo fatto una mole di giochi impressionante, forse è stato il miglior primo tempo fatto finora. Abbiamo giocato a viso aperto, siamo andati sul fondo forse delle 6-7 volte sia a sinistra che a destra e potevamo concretizzare di più. Il portiere secondo me è stato il migliore in campo per quanto riguarda il primo tempo. Ha fatto delle parate incredibili anche su Monaco, ricordo una così vagamente. Però dobbiamo concretizzare di più altrimenti poi rischiamo perché c'è anche l'avversario e l'avversario può avere magari un primo tempo di sbandamento dove ci sono i nostri meriti, dove ci possono essere anche i meriti dell'avversario però se poi non la chiudiamo diventa difficile perché abbiamo subito gol e abbiamo avuto un attimo di sbandamento ma poi ci siamo rimessi, siamo stati lì calmi a di nuovo cercare di far girare la palla e abbiamo raggiunto di nuovo il gol che all'inizio aveva fatto anche un'altra grande parata, il portiere sul colpo di tezza di Cristaldi. E poi è stata una vittoria sofferta perché l'abbiamo tenuta stretta con i denti e sono contento. Alle difficoltà legate alle assenze si sono aggiunti anche gli infortuni in corso d'opera, è stato costretto a cambiare in più occasioni soprattutto la retroguardia? Sì, la Casia prima di Lavello era stato anche due o tre giorni fermo, questa settimana abbiamo avuto un po' Monaco, un po' Clemente e quindi giocando in maniera ripetuta ci possono capitare queste situazioni qua, però abbiamo visto che chi va a sostituire il compagno non demerita e si conferma magari utile al rispetto di questi che non sono tutti titolari, sono tutti ragazzi potenzialmente titolari. La classifica lo sappiamo è abbastanza virtuale per i tanti recuperi che dovranno ancora disputarsi ma ce l'ho dato un occhio visto che l'Andria è lì proprio in alto? Ma noi abbiamo come primo obiettivo quello che è la salvezza, dobbiamo raggiungerla quanto prima e poi l'appetito può venire mangiando perché questa squadra si sta esprimendo bene, stiamo lavorando bene, c'è il sostegno da parte di tutti, non solo della società, della tifoseria. Oggi abbiamo visto anche uno striscione qui, anche se loro non ci sono fisicamente, sono qui con la testa e col cuore e quindi è una cosa molto importante. Io ci tengo oggi a dedicare la vittoria al di là di tutto l'ambiente, i tifosi, i ragazzi, però voglio essere egoista oggi proprio perché è una giornata particolare e la voglio dedicare alle mie donne che sono a casa, a mia moglie e alle mie due bambine perché lo meritano per i tanti sacrifici che fanno e sappiamo quanto è dura stare lontano da casa, però se questi sono i risultati ben vengono questi sacrifici e quindi la vittoria la voglio dedicare a loro. Noi oggi abbiamo fatto un regalo all'Andria, soprattutto nei primi 20 minuti, che tutto quello progetto che abbiamo preparato in settimana non ci è riuscito, abbiamo sofferto in bucate generalmente per due e più sotto punta Cerone, erano troppo larghi e abbiamo sofferto all'inizio. Poi piano piano, secondo tempo, ultimi 15 minuti del primo tempo abbiamo fatto la gara forse solo noi, loro qualche ripartenza hanno fatto, però diciamo che viviamo un momento delicato e abbiamo trovato via del gol, pareggio, alla fine subito l'abbiamo proprio, potevamo evitare quel fallo, quella punizione, alla fine Andrea ha approfittato, ha fatto due a uno, poi abbiamo avuto un'altra due o tre situazioni importanti, non siamo riusciti a fare gol e facciamo complimenti a questo Andrea e noi onestamente forse abbiamo creato più palle gol oggi, abbiamo fatto 4-5 palle gol, però non basta, bisogna fare risultato e noi il risultato non lo stiamo facendo, onestamente mi prendo le mie responsabilità e la squadra oggi ha giocato meglio secondo tempo, non i primi 20 minuti che abbiamo fatto molto male. Continua il momento delicato del Cerignola, prosegue il feeling con il Giovanni Paolo II del Nardò, eccolo il doppio risvolto del derby, lo vincono 1-0 in Eretini che concludono con un successo un eccellente girone d'andata, quinta partita senza vittorie invece per il collettivo Fantino, l'unico del girone insieme al Fasano a non aver mai ottenuto i tre punti nel formato trasferta, il tabù con la valigia da viaggio resta intatto. L'affare tutto pugliese dell'ultima di andata di Serie D lo decide addirittura uno svedese, Erik Thornros, l'attaccante vichingo al quarto centro in questo campionato, incorna a metà della prima frazione sugli sviluppi di un corner. Diventano 19 su 26 complessivi, così i punti conquistati tra le mura amiche dai Salentini. 5 juniores dal primo minuto per i padroni di casa, addirittura 6 per gli ospiti. Massari, 2002 del Nardò, calcia sul primo palo, Chironi si distende e ci arriva. Dalla parte opposta, Aschik lavora il traversone verde, viene murato in aria avversaria. Ofantini, in gol a metà frazione, lo stesso Aschik lanciato da De Cristofaro in fila mille, ma la sua posizione di partenza è irregolare, tutto inutile. Retropassaggio, rischiosissimo di capitano Esposito, per fortuna di Chironi del Cerignola, non è indirizzato nello specchio. Dal successivo corner, però, i neretini spaccano in due la gara e Thornros a fare centro di testa e a portare in vantaggio i suoi. Succede poco o nulla nella seconda parte della prima frazione, l'1-0, resta in ghiaccio sino al riposo. Pazienza, cambia subito in avvio di ripresa, fuori Aschik, dentro Monopoli. Il mio entrato, servito da Esposito, tenta la giocata di prestigio, ma il suo colpo di tacco termina sul fondo. Cerignola ad un passo dal pari, prima dell'ora di gioco, Russo fa erizioni in aria alla difesa del Nardò salva. La sfera giunge al 2002, Scuderi che spreca tutto in questo modo. Torna in campo, dopo l'infortunio, Malcore che prende il posto di Acampora. L'ex attaccante del Lecce può incidere subito sul punteggio, ma Milli si oppone e debia in corner. Nella ripresa è monologo Cerignola, che però non riesce a cambiare volto alla partita. Il Nardò resiste sino al termine e conduce in porto la vittoria. I Granata transitano al giro di Boa in settima posizione con 25 punti all'attivo. Davvero niente male per il collettivo di Ciro Danucci, anche se ci sono diverse squadre che devono recuperare delle gare. Una di queste, il Sorrento, sarà di scena domenica prossima al Giovanni Paolo II. Per la prima di ritorno comincerà Aldangelo, invece, contro il team Altamura la seconda parte di stagione. Di un Cerignola che continua a faticare in trasferta la classifica degli Ufantini a metà campionato. È tutt'altro che rassicurante. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui abbiamo meritato il vantaggio. Abbiamo cercato di creare gioco, anche se oggi non era facile, perché sia nel primo che nel secondo tempo c'era molto vento e quindi quando c'è molto vento è difficile sia giocare a favore che contro. Nel secondo tempo si è alzato ancora più vento, quindi era complicato. Però penso che il primo tempo sia stata meritatissima la vittoria. Nel secondo tempo il Cerignola ha avuto una sola occasione, il Cerignola è una squadra forte, una sola occasione la si può concedere. Un ottimo calciatore, me ne avevano parlato bene, se ne parlava un gran bene anche a Lecce, perché uno che fa comunque 15-20 panchine in Serie A non può essere l'ultimo arrivato. Ha delle ottime qualità, naturalmente si deve calare in quello che è il contesto. È andato storto che abbiamo preso gol, alla prima occasione concessa. Questa è una cosa che succede già da un po' e non va bene per una squadra che ha come obiettivo quello della salvezza, ma al di là di quello che è l'obiettivo non va bene, non va bene perché quello che un po' ci aveva dato nella fase iniziale era la forza nella difesa, di non prendere gol. Poi magari ne sbagliavamo diversi, ma alla fine comunque riuscivamo a fare il risultato. Questa situazione che comunque ad ogni occasione purtroppo puntualmente prendiamo gol deve essere sistemata subito, con più cattiveria, con più attenzione, con più determinazione e mettere in campo quell'agonismo nelle situazioni. Se poi vado ad analizzare a 360 gradi la prestazione, i ragazzi hanno dato tanto, si sono impegnati, hanno corso, però nelle situazioni, negli episodi bisogna essere molto più determinati, molto più cattivi, molto più attenti perché poi alla fine le partite si risolvono in questo modo, attraverso queste situazioni e noi non possiamo permetterci più di concedere e di lasciare sempre situazioni agli avversari. Decimo risultato utile consecutivo, sesta gara di fila senza reti subite e porta inviolata in questo 2021. Il Taranto fa sul serio e impone la legge dello Iacovone anche alla corazzata Lavello che cede 2-0 agli Ionici, prestazione da dimenticare per gli uomini di Zeman, troppo evanescenti in fase offensiva. Partono meglio i Lucani, al sesto ci prova Longo dal vertice destro, Cekoski si rifugia in corner. Al decimo rispondono i padroni di casa con un bel frasseggio, la conclusione però centrale di Falcone. Un minuto più tardi l'insidioso rassoterra di Guaita viene allontanato dalla difesa ospite. Al quattordicesimo nuova chance per il Lavello che riparte con Bursio, il suo diagonale termina di un soffio a lato. Al diciottesimo Guaita dall'altro lato può calciare da buona posizione, tiro lento ed impreciso. Poco dopo la mezz'ora gli Ionici passano in vantaggio, calcio ad angolo di Marsili e colpo di testa vincente di Abagian che firma l'1-0 e l'ultima emozione del primo tempo. Nella ripresa il Taranto chiude subito la contesa. Al sessantesimo il direttore di gara concede un calcio di rigore agli Ionici per questo dubbio. Fallo di mani in aria lucana sul cross di Guaita. Dal dischetto ci va proprio Guaita che spiazza Carretta e realizza il 2-0. Il Lavello nella restante parte di gara prova a scuotersi. Diurni viene chiuso dalla difesa Ionica prima della battuta a rete. Il colpo di testa di Brunetti sugli sviluppi di un corner non crea apprensioni a Cekoschi. Poi sempre Diurni dai 15 metri prova la conclusione. Debole e centrale. Il Taranto arroccato in difesa non concede spazi agli ospiti sino al triplice fischio. Finisce 2-0 con gli Ionici che domenica sempre lo Iacovone affronteranno il Picerno. Il Lavello invece renderà visita al Molfetta. Mancano 7 minuti al novantesimo quando il più esperto del gruppo Domenico Di Cecco dà probabilmente una scossa alla stagione del Bitonto. Vincono 2-1 al Vito Curlo i Nero Verdi. Conquistano la seconda vittoria esterna consecutiva alla terza del computo complessivo nelle ultime quattro partite di questo campionato. Comincia con un'affermazione e rimonta dunque l'avventura al timone della squadra di Valeriano Loseto. Bitonto a meno 8 dalla capolista Casarano. La strada, inutile nasconderlo, è ancora lunghissima però. Perde la partita con tanti rimpianti e mette fine alla propria serie positiva dopo quattro risultati utili consecutivi. Invece il Fasano che resta in fondo la graduatoria. Meglio la squadra di Vito Costantini nella prima frazione. Melillo calcia dalla distanza e mette in apprezzione Figliola che riesce comunque a cavarsela in qualche maniera. Bernardini ci prova da fuori aria. Questa volta l'estremo ospite blocca in sicurezza. Conclude debolmente dopo il quarto d'ora di Fino servito da una verticalizzazione di Trové. Il Bitonto prova a farsi notare in avanti nell'ultimo segmento di primo tempo. Montinaro serve in aria Mariani che calcia di prima intenzione e mette in risalto la replica di Suma. Niente bis in sette giorni per il 2002 dei Neroverdi. Decisivo nel successo contro il Nardò. Condizioni del campo complicatissime per i protagonisti. Il freddo è davvero pungente prima del riposo però. Il Fasano mette la testa avanti. Melillo lancia. Lo sabio disegna per la spaccata vincente di Trové. Biancazzurri dal primo minuto con 4-2001 e un 2002 in vantaggio all'intervallo e per certi versi anche meritatamente. È tutto un altro Bitonto. In ogni caso al rientro dagli sfogliatoi la reazione d'orgoglio parte dopo tre minuti quando Nannola disegna una traiettoria interessante sul secondo palo per la Tanzio e Mariani. Suma risolve per i suoi. Lo stesso Nannola sugli sviluppi del corner. Manca una clamorosa occasione per il pari da posizione invidiabile. Ancora Nannola poco dopo lavora per il mancino di Lattanzio che viene neutralizzato dal portiere di casa. Spinge sull'acceleratore la squadra di Rossetto che pareggia i conti prima dello scoccare dell'ora di gioco. Palazzo illumina. Lattanzio completa l'opera con il quinto centro personale in questo campionato. 1-1 al Vito Curlo. L'inerzia del match è favorevole ora ai Bitontini. Erroraccio di Dorval Mariani lanciato da Colella. Dove fare i conti però con il gioco d'anticipo di un avversario. Ultimo quarto di Contesa. Il Fasano prova ad alleggerire la pressione con una punizione dalla distanza di Bernardini. Figliola si rifugia in angolo. Lo stesso capitano del Fasano sui sviluppi di un corner sfiora il bersaglio da lontano. Buon momento dei padroni di casa. Trove servito dal mio entrato Lopez viene fermato da Petta. Ultimi dieci minuti stessi interpreti ma ruoli invertiti per il contropiede dei padroni di casa. Lopez su suggerimento di Trove non inquadra lo specchio. E poi il gran finale del Bitonto. Suma blocca agevolmente il mancino di Caruso. Nulla può poco dopo. Tuttavia sulla conclusione di Di Cecco che fa saltare il banco e regala il sorpasso agli ospiti. 2-1. Il Fasano prova subito a rimediare. Punizione di Melillo. Colpo di testa di Di Fino e provvidenziale salvataggio di Petta. Finisce anzitempo la partita del tecnico Valeriano Losseto espulso all'esordio per proteste. Nei cinque minuti di recupero succede poco o nulla. Passa al curro il Bitonto che balza così a quota 21 punti in classifica e mercoledì andrà a caccia del bis in trasferta nel recupero con la Versa. Restano 12 punti del Fasano che domenica prossima giocherà sempre in casa lo scontro diretto con i coinquilini della Putiolana. L'occasione dunque per lasciare l'ultimo scalino della graduatoria ai campani. Il primo tempo l'abbiamo giocato con la solita attenzione, con la solita corsa che abbiamo. Mo' dicevo ai colleghi che abbiamo avuto l'approccio del secondo tempo per il primo quarto d'ora. È stato, diciamo, tra virgolette senza cazzimma che ha permesso il pareggio agli ospiti. Ma quello che mi sento di rimproverare un po' i ragazzi, l'avevamo detto all'inizio, prima della gara, di disputare una gara attenta, fatta con intelligenza. Purtroppo in qualche occasione abbiamo sbagliato le scelte. Le scelte hanno condizionato appunto il risultato. Mi riferisco ai due o tre contropiedi, addirittura un tre contro uno, dove bastava gestire un pochino meglio la palla, forse si poteva fare gol e andare in vantaggio. Sappiamo che è una squadra che ha rinnovato pure loro, hanno rinnovato pure loro la rosa. Si è fortificata, ha cambiato allenatore. Quindi sappiamo che sarà un altro impegno duro, però è chiaro che a questo punto della stagione non puoi guardare tanto per il sottile, devi pensare a far bene tua, con tanta attenzione, con tanta determinazione, più di quella di oggi. Siamo entrati un po' contratti e abbiamo dato la possibilità al Pasano di giocare, di calciare in porta, però abbiamo creato nonostante questo un paio di azioni pericolose che potevano essere concretizzate nel migliore di modi. Questo non è bastato sicuramente, non nel primo tempo. Abbiamo chiuso in svantaggio su una dormita assolutamente generale da parte anche del reparto difensivo, però secondo tempo bisogna fare un grande plauso soprattutto ai grandi che si sono caricati la squadra sulle spalle e hanno dimostrato, se c'era da dimostrare che stanno giocare a calcio, siamo stati più fortunati rispetto al primo tempo, abbiamo concretizzato e credo che sia una vittoria meritata. Tre punti e testa della classifica, il Casarano non sbaglia e sfrutta la sconfitta del Lavello ed il rinvio del match tra Gravino e Picerno per balzare al comando del Girone H di Serie D. Putiolana battuta in rimonta 3-1 al Capozza, non c'è neve ma tanto freddo e vento. Il primo tempo decolla la distanza, da segnalare nei primi minuti al quarto un tiro centrale di Bruno parato facilmente da Romano. In una gara ostica, con tanti falli e gioco spezzettato, è la Putiolana a trovare il vantaggio. 34esimo, cross di festa, batti e ribatti in aria, alla fine la zampata vincente e dice Liento che a sorpresa porta i campani in vantaggio. Ospiti che potrebbero addirittura raddoppiare al 42esimo, con Palumbo che corre via in posizione regolare, entra in aria ma la sua conclusione è murata da un attento guido. Il Casarano reagisce nel lungo recupero deciso dal direttore di gara. Al 46esimo, Feola, con una conclusione dall'interno dell'aria, supera il Romano e riporta il match in parità. Rete che galvanizza i Salentini, al cinquantesimo arriva anche il sorpasso. Figliomeni, col destro, porta in vantaggio il Casarano appena prima dell'intervallo e 2-1, squadre negli spogliatoi. Nella ripresa poco da segnalare. Al 18esimo, Santoro ha la palla buona per allungare, ma sfiora solo il palo alla sinistra di Romano. Al 20esimo, ancora padroni casa, pericolosi, difesa della putiolana che libera in affanno. E il preludio alla terza rete. 21esimo, sviluppi di un corner. Figliomeni di testa, disegna una traiettoria imprendibile. Il Casarano chiude così i conti al Capozza, doppietta per Figliomeni ed è 3-1. Nei minuti finali, al quarantesimo, campani pericolosi con l'intervento incerto di Guido che con qualche difficoltà agguanta una palla velenosa. Triplice fischio e tre punti per un Casarano che passa in testa al campionato. Per la putiolana, uno stop dopo tre risultati utili consecutivi e la vittoria di Bitonto. Ora ci fermiamo davvero un attimo. Restate con noi, risultate classifiche torna subitissimo, subito dopo la pausa pubblicitaria.